Si potrà sparare i ladri se questi entreranno di notte in casa o in ufficio con l'intenzione di fare del male. Questa è la novità più importante che arriva dalla legge sulla legittima difesa approvata alla Camera dei Deputati e che ora va al vaglio del Senato. Tra i deputati bresciani solo quelli del PD, però si esprimono a favore. Per democrazia solidale questa legge non andava fatta. Contraria anche Forza Italia, che vede con favore i passi avanti di questa legge, ma insufficienti per la tutela di chi viene aggredito in casa propria. Voto contro anche da parte del Movimento 5 Stelle, che chiedeva un fondo per la tutela delle vittime. È una vergogna tutta italiana, per cui tutte le vittime di reati che non possono essere risarciti dai loro carnefici, dai condannati in sostanza, non possono far fede a uno Stato che in quel caso interviene. Ci sono moltissimi casi anche nel Bresciano.